A 47 anni, Evolvenza a cura di Bubi, erano due amiche a cui facevo ripetizioni e mi innamorai di una di loro, ma a 47 anni non potevo amare una ragazza di 14 anni e 9 mesi e il tribunale mi ha condannato a tre anni di carcere. Eppure l'amore ha una sola voce, che non cambia con la differenza di età. Dovevo cancellare Mariolina dalla mia mente, anche se lei ha testimoniato che siamo stati grandi insieme. Però chi mi ha giudicato è spietato e non sa che quando lei arrivava e mi rideva con i suoi occhi freschi, in un attimo mi colorava tutto. Se Mariolina avesse avuto tre mesi di più, tutto sarebbe stato lecito, anche se la legge riconosce a chi non ha ancora 15 anni i contraccettivi gratuiti. Nella mia vita non sono mai stato un Don Giovanni, eppure i miei giudici, amatori di donne al di sopra dei 15 anni e di pietanze, mi hanno messo in carcere. Qui mi lascio crescere i capelli lunghi, com'è un giorno senza Mariolina. Commento. Spesso gli amori così caratterizzati sono amori karmici, sono cioè gli effetti di forti amori vissuti in precedenti incarnazioni. Grazie. 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 Grazie.